Allora, via 58esima fanteria, area piani, oggi inizia la riqualificazione, la nuova vita di questa zona, una zona che da molti anni aveva, come dire, molti luoghi da risistemare, una strada da completare, un impianto sportivo che da molti anni non poteva utilizzare la parte della tribuna, ridaremo un nuovo volto alla strada, daremo una nuova opportunità all'impianto sportivo della piani, riportando, ricostruendo una nuova tribuna adatta anche alla nuova funzione che oggi lo stadio sta avendo, che è quella di uno stadio del settore giovanile, riportando l'immagine antica del 1924 con quella qualità. Sarà un'operazione che riqualifica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.